Firenze Smart In direzione mare per lavori 3 km di coda tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e coda in entrata Ponte d'Era Ovest, Ponsacco. In direzione Firenze, coda e attratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Su raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra Siena-Acqua Calda e Siena Nord in direzione Firenze e tra Firenze in Pruneta e San Casciano in Val di Pesa in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!